Gran Galà per il Festival Napoli Cultura Classic con la serata finale che ha visto salire sul palco dello storico Teatro Nolano, il Teatro Umberto, le eccellenze nei vari campi della cultura, dell'arte, dello spettacolo e della ricerca scientifica e tecnologica che si sono contraddistinte durante l'anno per le loro capacità umane e creative. Ai nostri microfoni il presidente dell'Associazione Napoli Cultura Classic, l'avvocato Carmine Ardolino e tra i premiati la giornalista del TG1 Laura Chimenti. Un bilancio positivo, un premio festival che conclude veramente alla grande. Una prima serata dedicata ovviamente alla sezione letteratura con veramente grossi personaggi della cultura nazionale scrittori come Claudio Volpe ed Edoardo Savarese. Per proseguire con il corto Cultura Classic dove c'è stata poi la presenza del regista Massimo Andrea, Edoardo Tartaglia e Veronica Mazza e concludere stasera con il premio all'eccellenza. Certamente un bilancio positivo perché diventa un premio internazionale con tutti i connotati, direttamente dal Messico lo scultore Sebastian. Abbiamo visto ovviamente la presenza per lo scambio interculturale con il cinema dell'Albania, quindi con l'ex ambasciatore albanese e con l'attrice Luri Buti che è una delle più grandi artisti attualmente europee del cinema europeo. E queste sono grosse soddisfazioni. La Cina, la partecipazione della Cina con Lushengo da parte per la pittura contemporanea. È questo che vogliamo portare al nostro territorio, che vogliamo portare a Nola, la sana cultura fatta da giovani e fatta ovviamente da volontari. E credo sia un bilancio positivo per il prossimo anno. Sì, è un premio che si autofinanzia, siamo tutti involontari, ci autotassiamo, non abbiamo fondi, se non sovvenzionamenti, piccoli sponsor da ditte che per fortuna credono nella nostra cultura. E facciamo la cosa positiva che facciamo della cultura ovviamente internazionale, che non si ferma al logo, perché secondo me lo scambio culturale è importante. Invitiamo a vedere questo premio, a vedere le nostre attività su www.culturaclassic.it, che è il nostro sito, che è un giornale online vero e proprio, per capire quello che facciamo. E rendervi partecipi, perché poi è un'associazione che è aperta a tutti, quindi a tutte le novità, al sostegno dei giovani talenti, alle borse di studio. Noi ci siamo, fateci sentire, perché è il premio di tutti. È sempre una grande emozione, perché poi siamo sempre noi a dare notizie, a stare in prima linea e questa volta diciamo che siamo dall'altra parte, insomma riceviamo una bella notizia, perché un premio è una bella notizia. Allora, è sempre più difficile avvicinarsi al mondo del giornalismo, lo è stato anche per me, ma i miei colleghi mi dicono che un tempo per loro non era così, i miei colleghi più anziani. Adesso si fa molta selezione, è difficile farsi fare dei contratti di praticantato, poi in questo momento di profonda crisi è difficile anche che le testate ti assumano. se però c'è la passione, la voglia, il motto per me è sempre nil difficile volenti, quindi se una cosa la vuoi, la ottieni, devi sempre avere l'obiettivo di fronte e poi se un ragazzo vuole davvero fare il giornalista ce la farà.